Giorgia Terranova di cinematografo.it, intanto buongiorno, volevo partire dal tema controverso e delicato che affronta il film, cioè quello del cambiamento climatico perché tutto inizia dallo scioglimento di un ghiacciaio che insomma potrebbe anche sensibilizzare maggiormente oggi su questo tema che va affrontato. Sì, parte tutto da qui, dal fatto che queste due volpi sono divise e allontanate proprio adesso che stavano aspettando l'arrivo dei loro cuccioli, no? La prima cucciolata, penso che emozione, che potevano provare queste volpi e si devono invece scontrare con questo destino che le allontana. Ed è bello vedere poi tutte le avventure che vivono ognuno nella sua parte e come riescono poi a tirarsi fuori. Ci insegna tanto questo film. Sì, perché è un film che è una storia d'amore, una storia d'avventura, a volte ironico, a volte commovente. C'è un aspetto di questi che ti ha coinvolto, ti ha affascinato di più? Beh, la perseveranza, cioè nel senso. Mi ha colpito molto il fatto che la scena in cui Kina viene aiutata dalla cagna, no? Che le ha portate a mangiare e l'aiuta, la difende e l'aiuta a trovare un nido per i suoi cuccioli. Questo fatto di aiutarsi, anche tra specie diverse, è una cosa che dovrebbe far riflettere anche noi. Qualche, diciamo, qualcosa su questa esperienza nuova del doppiaggio di Voce Narrante, che in questo film in particolare interpreta anche l'istinto e il comportamento di una specie forse non tanto conosciuta o di cui non c'è tanto parlato nei film sugli animali. Secondo me è stata molto intelligente anche come scelta, quella di raccontare la storia di queste volpi, perché comunque anche solo nell'aspetto sono dei peluche, no? Quindi istintivamente ti verrebbe voglia già di toccarli, di abbracciarli perché ti trasmettono calore. Questa cosa si sovrappone al fatto che sono una coppia che si scelgono per la vita, no? Le volpi arti che sono fedeli e passano una vita insieme. Ci sono tanti valori all'interno di questo film e quindi è bello che i bambini colgano anche questi aspetti e nel film sono molto presenti. Sì, è sintomatico anche forse la poca presenza degli umani in questo film. E quando ci sono sono rumorosi, se ci fai caso, no? Si sentono i rumori delle macchine piuttosto che sono... Sì, nel centro abitato. E anche forse simbolo di un luogo in cui forse c'è più rispetto per la natura e la natura regola maggiormente la vita degli abitanti. Sì, è sempre un po' al limite, no? Perché gli abitanti devono vivere e convivere con gli animali che possono diventare anche dei pericoli e allo stesso modo noi siamo un pericolo per gli animali. Quindi è un filo molto sottile quello che ci avvicina e ci allontana. Dobbiamo essere bravi a trovare la giusta misura da una parte e dall'altra. Forse noi abbiamo un po' più di responsabilità. Sì, anche questo aiuto che si crea tra le varie specie, specie diverse, è un altro tema sia ambientale che animalista che il film potrebbe trasmettere. Sì, sicuramente. Ok, allora grazie mille e complimenti. Grazie. 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 Grazie.